La nuova semaglutide è disponibile da pochi giorni in Italia con il nome commerciale Wegovy e sembra proprio purtroppo che spazzerà via, distruggerà la medicina dello stile di vita e questo mi fa molto incacchiare. Ora ti spiego tutto su questo farmaco, ti racconto come funziona, ti racconto perché effettivamente non posso non parlarne, perché anche dal punto di vista medico non posso nascondere che abbia delle potenzialità straordinarie sulla carta e non solo sulla carta ed è un argomento molto divisivo. Io ho sempre cercato sia nella mia produzione di contenuti ma anche proprio nella mia pratica con le persone di evitare il più possibile l'utilizzo di farmaci, di promuovere i buoni principi di un buon stile di vita, ho parlato anche tante volte di longevity medicine che è un po' l'evoluzione a mio giudizio della lifestyle medicine, ma tutto questo diciamo tornado che non inizia oggi ma diciamo viene soprattutto alla cronaca oggi con questo farmaco è diciamo non possiamo nasconderci dietro un dito, diciamoci la verità. È un argomento che mi viene richiesto, è un argomento che è richiesto a tantissimi medici e oggi cerco di raccontare tutto quello che c'è anche dietro. Adesso mi sono un po' immaginato anche un'analisi tra virgolette di un aspetto anche sociale che è implicato in tutto questo e spero di non fare i soliti 75 minuti a parte gli scherzi. Ho intenzione di fare più carezza possibile e di parlarti dei pro indiscutibili di questo farmaco ma anche dei contro. E cominciamo subito. Innanzitutto volevo partire con una citazione non di un premio Nobel della medicina ma di Albus Silente, quindi di Harry Potter perché definisce secondo me molto bene questo momento storico, tra virgolette, anche medico. Momenti bui e difficili ci attendono. Presto dovremo affrontare la scelta fra ciò che è giusto e ciò che è facile. Questo descrive perfettamente il concetto di cui voglio parlare oggi. La strada più facile, la scorciatoia, è sempre molto attraente per tantissime persone, per tantissimi settori e ho sempre anche fatto diversi video per cercare di dire che non esiste la pillola magica purtroppo, come ho già anticipato in qualche altro video, effettivamente esiste. Parliamo un po' di questo Wegovy, di questa semaglutide utilizzabile con l'indicazione proprio per dimagrire, per perdere peso e che ha anche tutta un'altra serie di efficacia, devo dire, su altri, efficace su altri settori del nostro corpo. Partiamo da spiegare che cos'è questo faro, che è un farmaco che ha un bersaglio, che è il recettore per il GLP-1. GLP-1 è un ormone, è un ormone prodotto dal nostro corpo, viene prodotto a livello intestinale, dalle cellule L dell'intestino, è un ormone che quando viene prodotto ha tutta una serie di effetti naturalmente. Questo farmaco mima l'effetto di questo ormone, si chiama GLP-1 agonista, quindi significa che va a dare l'effetto di questo ormone, va sul recettore, infatti per l'esattezza sono GLP-1 RA, agonisti del recettore del GLP-1, e questo produce tutta una serie di effetti in diversi settori del nostro corpo. Innanzitutto aumenta la secrezione di insulina, quindi va ad agire sul pancreas. Scusa l'interruzione, ti chiedo un piccolissimo favore, tanta gente guarda i miei video ma non è iscritta al mio canale, ti chiedo quindi questo piccolo gesto di iscriverti per sostenere, mantenere quella che è la mia divulgazione gratuita. Grazie, torniamo al video. Insulina prodotta dalle cellule beta del pancreas agisce anche sul glucagone, perché riduce la produzione di glucagone, quindi aumenta l'insulina e riduce la produzione di glucagone, il glucagone è un po' il contrappeso dell'insulina, un ormone prodotto dalle cellule alfa del pancreas, serve per aumentare la leucemia, serve anche per aumentare la produzione di glucosio, per aumentare la glicogenolisi. Noi nel fegato abbiamo un deposito di zucchero, chiamiamolo così, effettivamente zucchero, di glucosio, che può essere stimolato, può essere degradato, può essere un po' spremuto da questo deposito per fare andare più glucosio nel sangue e questa azione viene mediata proprio dal glucagone. Poi abbiamo degli effetti anche a livello diciamo periferico, noi abbiamo una riduzione dell'insulino resistenza, perché questo farmaco praticamente funziona al contrario, aumenta l'assessibilità insulinica e quindi riduce l'insulino resistenza, quindi può essere anche considerabile in questa situazione. Questi farmaci, ricordo, lo saprai assolutamente, nascono questo tipo di farmaco, nasce proprio per il diabete mellito di tipo 2, ma anche una condizione diciamo che è un po' l'anticamera molto spesso del diabete, l'insulino resistenza, anche questa sicuramente è un'efficacia, anche in questo ambito è un'efficacia. Poi abbiamo anche un aumento della lipolisi, lipolisi significa scioglimento del grasso, tra virgolette. I farmaci fanno dimagrire per l'appunto e non solo con un meccanismo, con più meccanismi di azione, tra cui anche questo perché appunto va a ridurre la formazione di grasso e aumenta la lipolisi. Infatti l'insulina ha un ruolo cruciale per la formazione, per il rigonfiamento soprattutto delle cellule adipose. Poi abbiamo anche un altro organo che è fondamentale coinvolto in tutto questo, che è lo stomaco. Questo qua lo disegniamo. Perché funziona anche nello stomaco? Funziona perché, scriviamocelo qua, così, perché rallenta lo svuotamento gastrico, rallentando lo svuotamento gastrico si ha un maggiore effetto di sazietà, cioè lo stomaco rimane un po' più pieno, quindi una persona mangia e ha una maggiore sensazione prolungata di sazietà e anche questo funziona, diciamo, sulla riduzione dell'appetito. Ha anche poi un effetto più avalle anche sull'intestino, riduce un po' la motilità intestinale, cioè il movimento dell'intestino e anche questo contribuisce all'effetto di sazietà che viene promosso da questo tipo di farmaco. Questa è un'azione, a mio giudizio, poco conosciuta ma veramente importante, fegato. Io vedo molto spesso nella mia pratica clinica, con le persone, i pazienti, vedo una sindrome, diciamo, che non è la classica magari, vedo anche sindrome metaboliche naturalmente, ma vedo delle sindrome che anticipano, possono essere anticipatori di una sindrome metabolica, cioè un quadro in cui c'è un insulino resistenza, in cui c'è un sovrappeso, in cui c'è anche una steatosi epatica, il cosiddetto fegato grasso. Abbiamo l'accumulo di grasso proprio a livello del fegato, l'epatocita che diventa grasso, c'è tutta una serie di meccanismi biochimici per cui si verifica questo, ma non vado a perdermi da questo punto di vista. Diciamo che stimolare questo recettore GLP-1, questo farmaco di cui ti ho parlato, va a ridurre, a far tornare indietro anche, questa è la cosa a mio giudizio molto interessante, va a far tornare indietro la steatosi epatica. Il fegato grasso è un problema metabolico, purtroppo tantissime persone, ma anche, mi dispiace dirlo, medici, vabbè, c'è un po' di fegato grasso, pazienza, può succedere, un cavolo, questa è una situazione che va assolutamente gestita, bisogna cercare di far tornare indietro, di fermare almeno l'avanzamento di questa condizione, perché una steatosi epatica crea dei problemi anche importanti, crea un'infiammazione, un'infiammazione del fegato, crea un problema anche relativo poi a come funziona il fegato, non sto a dirti, saprai alcune, ma si trovano facilmente tutte le miliardi di funzioni che ha il fegato, c'è un problema anche di gestione di ferro, ferritina, eccetera, eccetera. Quindi questo farmaco va ad agire anche sulla riduzione della steatosi epatica. E poi infine abbiamo il nostro cervello, perché la voglia di mangiare, ma anche l'effetto sazietà, adesso lo disegno un po' così, ma forse era meglio non disegnarlo, cervello. La fame, la sazietà sono poi tutti i meccanismi che giocano come palcoscenico anche naturalmente il nostro cervello. Noi con questi meccanismi, soprattutto a livello dello stomaco, abbiamo un aumento della sazietà, abbiamo una riduzione del cibo, chiamiamolo food intake, abbiamo una riduzione dell'assunzione di cibo e abbiamo anche, tutto di conseguenza, una riduzione anche dell'appetito, naturalmente. Questi sono i bersagli principali di questa semaglutide. Lo so, sembra tutto molto affascinante e come dicevo all'inizio lo è, ci sono molte potenzialità e non posso, non ho sentito il bisogno diciamo di fare un video su questo, perché effettivamente da medico, come dicevo prima, non si può trascurare tutto questo. Cioè poi in più mi stavo dimenticando anche un altro organo, giusto un po' importante, che è il cuore. Questo tipo di farmaco, come anche altri simili, come anche le glifozine per esempio, come anche gli inibitori del DPP4, hanno indicazioni anche per la prevenzione cardiovascolare. Addirittura le glifozine, DAPA glifozine per esempio, ha l'indicazione anche in prevenzione secondaria per eventi cardiovascolari. Tradotto significa da un farmaco per diabetici a uno che non è diabetico per evitare gli rischi cardiovascolari o per evitare un evento cardiovascolare, un infarto, un ictus eccetera. Quindi la potenza di questi farmaci si diciamo svolge, si esalta anche a livello di prevenzione di questi problemi e anche i GLP1 agonisti hanno effettivamente una possibile indicazione, una netta anzi indicazione anche in prevenzione cardiovascolare. Tutto questo sembra davvero molto interessante, molto bello, lo ripeto, e bisogna considerare che effettivamente ci sono diverse persone che sono candidati ideali. Nonostante mi stia tutto molto antipatico, tutto questo lo voglio sottolineare perché sembra tutto troppo facile, ma ci sono diverse persone candidati ideali proprio all'utilizzo di questi farmaci. Quando viene proposto questo farmaco? Se noi andiamo a prendere la scheda tecnica che trovi facilissimamente online, viene proposto come trattamento vero e proprio della gestione del peso, insieme a una dieta ipocalorica e a un aumento dell'attività fisica. Quindi questo aspetto anche nella scheda tecnica viene sottolineato e è ovvio che l'utilizzo di questo farmaco debba comunque essere contemporaneo a delle strategie riguardanti lo stile di vita. La scheda tecnica parla proprio di pazienti con un indice di massa corporea BMI superiore a 30, quindi vera obesità, o anche tra 27 e 30, quindi in situazione di sovrappeso, marcato sovrappeso, in condizioni di diabete di tipo 2 ma non per forza e poi anche per gestione, come dicevo, della prevenzione di problemi cardiovascolari. Perché ti ho detto all'inizio, nonostante sia scritto nella scheda tecnica dell'attività fisica e dell'alimentazione, perché? Temo, non solo io, temo che verrà utilizzata per uccidere oppure sarà la causa della morte, della medicina, dello stile di vita, perché effettivamente questo farmaco può funzionare anche senza enormi interventi da questo punto di vista ed è questa la cosa che mi sta un po' più qua sull'anima, diciamo così, però è giusto che lo dica in maniera onesta. E soprattutto perché è importante anche l'utilizzo di questo farmaco, di questi farmaci in generale, ne stanno arrivando anche un'altra quindicina, te ne parlo poi alla fine se sei curioso di sapere anche quali altre novità stanno arrivando. È molto importante perché i sistemi sanitari del mondo non ce la fanno più, è sotto gli occhi di tutti che anche nel nostro paese il sistema sanitario sia da molto tempo ormai inutilizzabile per molte situazioni, tantissime cose bisogna che ce le paghiamo, prestazioni di tutti i tipi ma anche visite con un anno e mezzo di attesa è impossibile, speriamo che l'urgenza venga mantenuta e alla base anche di tutto questo non vado a fare un'analisi da questo punto di vista ma c'è anche uno dei problemi più importanti del chiamiamo la società moderna, ovvero proprio l'obesità. L'obesità è sempre più frequente, si è impennata negli ultimi anni la percentuale di obesi, stiamo parlando di circa un miliardo di persone al mondo che sono obese e bisogna anche un attimo cambiare il punto di vista, l'obesità è a tutti gli effetti una malattia cronica e ci sono tantissimi fattori che intervengono per generare o per mantenere l'obesità. Faccio molto rapidamente un grafico, noi abbiamo ormai dei livelli di incidenza di obesità che si stanno impennando, qua sono gli ultimi 20-30 anni, 1990 diciamo. Il tasso di obesità adesso ho fatto un disegno un po' non proprio scientifico ma per rendere l'idea, qua è il tempo che avanza e qua è la percentuale di soggetti obesi, questi sono grafici che si trovano ovunque fondamentalmente, questa impennata ha coinciso con il maggior consumo di cibi ultraprocessati, con problemi di sedentarietà, tutta una serie di problemi sociali, industrie alimentari, adesso non voglio aprire anche questa parentesi, ci sono delle chiare cause per cui l'obesità ha questa impennata, ci sono molte responsabilità anche di tante aziende, proprio per un discorso di continua spinta di certi alimenti barra bevande e per 40-50 anni ci hanno spiegato che i grassi ci fanno male, lo zucchero invece ci fa bene, sono argomenti anche che ho trattato in altri miei video, però questo non è più sostenibile perché all'obesità si correlano tutta una serie di problemi che vanno poi a creare malattie croniche, l'obesità è una malattia cronica che genera o alimenta in un circolo vizioso altre malattie croniche e questo non è più sostenibile in nessun sistema sanitario. L'obesità poi è una patologia vera e propria complessa, multifattoriale, c'è quello che viene chiamato input edonistico, la voglia, il piacere di mangiare, ma poi c'è tutto il problema ambientale, c'è l'aspetto delle aziende alimentari, c'è l'aspetto del continuo bombardamento anche sociale, del bombardamento anche delle pubblicità, io faccio anche spesso l'esempio delle aree di servizio in autostrada, basta entrare in una di queste aree di servizio e esattamente ovunque tutto tutto quello che ci fa proprio impennare queste statistiche, tutto ciò che si trova purtroppo alimenta questa situazione qua, c'è il peggio di quello che possiamo mangiare, poi faccio sempre una piccola parentesi, c'è anche il peggio della musica, ma questo è un mio parere ultrapersonale e che non c'entra niente, anzi mi scuso per averlo detto, ma è una battuta che faccio spesso ai pazienti e questo è l'esempio che dobbiamo tenere in considerazione ed è proprio qui che si genera anche in età molto purtroppo precoce un problema di obesità, i bambini obesi, i bambini già con l'insulino resistenza sono sempre di più, io in pratica non vedo bambini ma ho molti colleghi che hanno segnalato questo enorme allarme, per segnalare anche ancora di più, per sottolineare ancora di più questo problema della patologia cronica, diverse associazioni mediche in Europa anche hanno coniato un nuovo acronimo che è ABCD, che identifica adipositi based chronic disease, cioè malattia cronica con di base proprio l'adiposità, cioè l'obesità, questo per sottolineare proprio che è un insieme di complesse situazioni l'obesità ed è effettivamente un bersaglio ormai fondamentale da colpire per cercare di rendere, mantenere sostenibile almeno la sanità e anche poi per un discorso di salute pubblica naturalmente, sociale, tutte le complicazioni che ne derivano. Ed essendoci molti fattori che generano, causano e mantengono poi l'obesità, non si può più pensare di fare il classico discorso che fanno ancora tanti medici, nutrizionisti, nutrizionisti magari meno, pacca sulla spalla, mi raccomando, muoviti di più e mangia di meno. Questo ovviamente è fallimentare, lo è sempre stato in realtà, ma non si può pensare ancora che ci siano di professionisti che non considerano il grave problema di un sovrappeso di un'obesità e lo sottovalutano in questo modo. Bisogna parlare di più approcci e parlando dal mio punto di vista personale medico, bisogna sicuramente partire dalle basi. Ne ho fatto decine e decine di video su questo, sulla prevenzione, su quello che può essere un buon indirizzo alimentare, anche se quello può naturalmente, deve anzi essere sempre personalizzato. Tutta una serie di esami che possono darci un'indicazione anche di quello che poi era stato infiammatorio, perché l'obesità o comunque il sovrappeso, il grasso viscerale è pro-infiammatorio, il tessuto adiposo, soprattutto il grasso viscerale non è una massa inerme, tutta traballante, antiestetica, è un organo, un organo endocrino che produce molecole e soprattutto produce molecole infiammatorie. L'insulina stessa ha azioni infiammatorie. Le persone con queste problematiche hanno anche un incendio gigantesco al loro interno che può essere anche misurato, per fortuna, e può essere anche tenuto come indice, diciamo, di miglioramento, non solo guardando il peso o la circonferenza delle persone, ma anche dal punto di vista metabolico interno possiamo gestire e mantenere una situazione in cui in partenza abbiamo proprio un problema di obesità. Tutto questo, che piaccia o meno la storia del farmaco, e adesso ci ritorno anche sul farmaco e sugli altri farmaci disponibili, tutto questo può piacere o no, ma non possiamo appunto, come dicevo Lizio, ignorare che abbiamo a disposizione anche un'arma obiettivamente, mi scoccia a dirlo, ma un'arma straordinaria per il trattamento di tutta questa sindrome che, ripeto, deve essere un intervento non solo farmacologico, ma anche naturalmente sulla medicina dello stile di vita. Io temo che questi buoni propositi, quello che è giusto, come dicevo nella citazione iniziale, venga un po' trascurato proprio per pigrizia, per scorciatoie, perché mangio quello che voglio e utilizzo il farmaco. Questo è quello che temo e che temo darà una mazzata, spero non finale, proprio alla medicina dello stile di vita. Io stesso ho fatto una cena pochi giorni fa in cui ho parlato di tutto questo ed è stata anche effettivamente una sera che ha ispirato questo video. Ci siamo ritrovati a parlare proprio di questo, ero con dei colleghi, ma cosa faremo del nostro lavoro se effettivamente tutti i discorsi che facciamo da anni verranno un po' soppiantati dall'utilizzo di un farmaco? Cioè sarebbe abbastanza triste, dovremmo reinventarci, dovremmo, come dobbiamo reagire? Stiamo assistendo, ci siamo posti anche questa domanda, stiamo assistendo alla fine del mondo medico che conosciamo? Stiamo discutendo della fine del nostro mondo, del mondo che conosciamo? Qua ci abbiamo infilato poi anche tutto il discorso dell'intelligenza artificiale, ci abbiamo infilato anche il problema sociale di un altro farmaco, del fentanyl, dell'epidemia, di questo farmaco utilizzato come sostanza stupefacente, estremamente più potente di eroina, di morfina, negli Stati Uniti c'è un problema sociale mostruoso, 70 mila morti o forse anche di più, qua mi scuso, non ho controllato il dato, ma tantissimi morti nel 2022 per l'utilizzo di questo farmaco, c'è tutta la congiuntura politica anche della Cina che sembra favorisca questo mercato negli Stati Uniti per sabotaggio, i discorsi potrebbero diventare anche molto più ampi e non ho le competenze per trattare di questi argomenti, però stiamo assistendo a un cambiamento epocale, nel mio piccolissimo per l'utilizzo, lo sdoganamento di questi farmaci, ma poi ci sono molti altri aspetti da considerare dal punto di vista medico, ma anche sociale a cui stiamo assistendo, ci sono sempre più rischi purtroppo nei prossimi anni che la forbice sociale si allarvi ulteriormente, che ci siano disordini nelle strade, adesso non voglio fare l'uccello del malaugurio o inquietare, tu che stai ascoltando questo video, però le implicazioni sono molto ampie, effettivamente parlare di questo farmaco che comunque amplia la forbice sociale perché è costoso e negli Stati Uniti non verrà, parlando degli Stati Uniti non verrà rimborsato tanto facilmente, questo può andare ulteriormente a separare classi sociali, quindi c'è tutto un discorso anche, ripeto, in cui non voglio addentrarmi troppo, non è il mio campo, però è da considerare in tutto questo. Parliamo un po' di effetti collaterali di questa semaglutide, bisogna dire, anche questo un po' mi spiace dirlo, effettivamente, ma è un farmaco solitamente molto ben tollerato, non è raro però che dia problemi gastrointestinali, di solito semplici, cioè di tipo nausea, di tipo diarrea, gastrointestinali in generale. Ricordando un attimino anche il meccanismo d'azione, questo GLP-1 va ad agire sul pancreas, che va ad agire sullo stomaco, che va ad agire anche sul nostro cervello, quindi analizziamo un po' il pathway, il percorso un po' di questo ormone qua. Sul pancreas l'abbiamo detto prima, su insulina e giù glucagone. Pancreas è un punto anche critico, secondo alcuni detrattori, perché sono riportate pancreatiti. Nella scheda tecnica sempre si parla di 0,2% di rischio. È un rischio sicuramente remoto, ma da considerare. Però anche qua è interessante sapere che non è tanto sull'azione diretta di questo farmaco sul pancreas, che si possono vedere questo tipo di effetto collaterale pancreatite, ma sembra più che sia un problema derivante dalla perdita di peso troppo rapida. Una perdita di peso troppo rapida in un individuo può generare degli squilibri metabolici o ormonali e non si sa ancora bene perché possa più questo generare un rischio di pancreatite più che il farmaco direttamente. Un terzo delle persone che utilizzano questo tipo di farmaco perde anche più del 20% del peso anche in poche settimane barra mesi, quindi una perdita eccessiva pare sia più quella causa del problema del pancreas. A livello dello stomaco e a livello del tratto gastrointestinale in generale abbiamo visto le azioni di prima sul rallentamento dello svuotamento e sulla riduzione della motilità, cioè del movimento dei movimenti naturali del tratto gastrointestinale anche dell'intestino. Questo può generare nausea soprattutto a livello dello stomaco e a livello intestinale può generare appunto dolore, per esempio un po' di mal di pancia e appunto anche casi di diarrea perché appunto va ad agire anche a questo livello. A livello del nostro cervello in cui abbiamo una riduzione della fame, abbiamo un aumento della sazietà non sono riportati particolari problemi, anzi addirittura mi dimenticavo prima di sottolineare che dato che l'ormone o comunque l'agonista, il farmaco che mima l'azione di questo ormone qui ha un'azione di regolazione naturalmente del glucosio, è nato come farmaco per i diabetici, questa regolazione dell'insulina e poi anche del glucosio con l'inibizione del glucagone va a ottimizzare i livelli proprio del metabolismo glucidico, chiamiamolo così, livelli di glucosio nel nostro sangue. Questo riduce anche, secondo moltissimi studi, il rischio di malattia di Alzheimer. Ormai anche la vicina di casa sa che l'Alzheimer viene chiamato diabete di tipo 3 perché ormai è chiarissima l'associazione di un'intossicazione da glucosio, da una fame poi di glucosio dai nostri neuroni dovuto a un'insulino resistenza, a un'infiammazione, a un'euroinfiammazione e a tutta un'altra serie di meccanismi che genera poi la malattia di Alzheimer. Ci sono poi altre cause che favoriscono questa patologia, però effettivamente non ci sono più i minimi dubbi che un buon equilibrio dello zucchero nel nostro sangue riduca enormemente il rischio di diabete. Io anche l'anno scorso, mi sembra maggio o giugno dell'anno scorso, ho fatto proprio un video in cui si associava all'utilizzo di Ozempic, un'altra semaglutide, alla riduzione di rischio di malattia di Alzheimer, proprio perché va a riequilibrare l'insulinosensibilità delle cellule cerebrali e appunto tutto il meccanismo di glucosio che dicevo prima. Quindi qua diciamo che c'è una prevenzione che appare molto interessante in realtà, gli effetti collaterali soprattutto si verificano a questi livelli, ci sono altri possibili effetti collaterali molto più rari, lì ti rimando sulla scheda tecnica, ma diciamo nella pratica anche dei colleghi di questa cera di cui ti parlavo prima, la piccola percentuale, riferitami almeno, di effetti collaterali riguardava appunto gli effetti gastrointestinali, mai vista una pancreatite, però ripeto sono riportate. Mi dimenticavo anche una piccola cosa interessante potenzialmente, l'ormone che inibisce GLP-1, si chiama DPP-4, questo è un altro bersaglio di altri farmaci che oggi ancora vengono utilizzati nel trattamento del diabete di tipo 2, gli inibitori del DPP-4, chiedovenia, DPP-4 e sono farmaci tipo le gliptine, citagliptine per esempio eccetera, sono farmaci che vengono utilizzati oggi proprio per la terapia del diabete di tipo 2, ma anche quelli sono farmaci effettivamente che fanno in maniera inferiore, ma fanno perdere peso proprio perché vanno a mantenere più GLP-1 in circolo, però funzionano dal punto di tutti questi meccanismi che ti ho raccontato, sono molto meno espressi da questo tipo di farmaco. Come si usa questo farmaco? Qua non andrò tanto a spingermi anche perché sono discorsi da fare con un medico naturalmente per la tua situazione nel caso sia necessario l'utilizzo di questi farmaci, con tutte le indicazioni possibilmente che dicevo prima e non per perdere quei due minimi rotolini o quei due chiletti che è in più, per favore, questo sarebbe sulla carta da evitare anche se in realtà sarà molto richiesto anche per questo. Si inizia con un dosaggio molto basso proprio per andare a ridurre il più possibile la problematica non rara anzi di effetti gastrointestinali, si parte addirittura con un decimo del dosaggio che è 0,25, si utilizza una fiala sottocuta della settimana e poi il dosaggio va ad aumentare. Su questo non mi vado, ripeto, a spingere molto oltre, sono dati facilmente reperibili ma poi vanno sempre comunque gestiti, lo sottolino, da un medico che si occupa di queste terapie perché poi va gestito il dosaggio proprio in seconda anche di quelle che sono le sensazioni, eventuali effetti colaterali eccetera eccetera. Parliamo infine di quello che ci aspetta perché GLP-1, questo ormone ormai che ti ho nominato 50 volte in questo video, lo rimetto di nuovo al centro della mia lavagna perché è l'attore protagonista ma ci sono tanti altri attori che probabilmente possiamo definire quasi protagonisti come questo ormone qua perché ti sto per parlare di farmaci che sono in arrivo, sono già arrivati, che andranno a essere ancora meglio purtroppo o per fortuna a seconda dei punti di vista di questo Wegovia di cui ti ho parlato, anzi Wegovia per dirla all'inglese, all'americana che è appena arrivato in Italia. Noi abbiamo a disposizione dei farmaci che vanno ad agire su questo ma anche su altri ormoni che giocano un ruolo fondamentale proprio nel mantenimento della stazietà per un rallentato svuotamento gastrico e adesso ti faccio proprio il disegno un po' di tutte queste possibili combinazioni che si stanno studiando, l'azienda produttrice di questo farmaco di cui ti ho parlato oggi sta studiando diverse altre combinazioni anche con altri agonisti e unibitori di altri ormoni, è un'azienda che ormai forse è la più ricca sul mercato grazie a tutto questo, questo farmaco di cui ti parlo oggi ma come anche i precedenti sono introvabili oggi in Italia, difficilissimi da trovare, sono ultra richiesti ma addirittura questo lo saprai, questi farmaci di cui aveva bisogno il diabetico, il diabetico non riusciva a trovarli perché venivano impropriamente diciamo smerciati a chi anche non era diabetico proprio per dimagrire, oggi invece tutto questo non è più necessario perché il Wegovy o il Wegovy ha un'indicazione proprio per la perdita di peso a differenza di Saxenda o Zempi che per fare i nuovi tanto li conosciamo tutti. Allora come funzionano questi farmaci in arrivo? Allora questi sono tutti ormoni bersaglio di farmaci che si stanno studiando, che stanno per arrivare, che sono già presenti, che si possono anche combinare con gli agonisti di questo famoso ormai GLP-1. Partiamo dalla amilina, c'è un farmaco che combina semaglutide quindi agonista GLP-1 con l'amilina. L'amilina è un ormone che viene prodotto sempre nelle cellule beta del pancreas dove viene prodotta anche l'insulina, anche questa amilina regola i livelli di glucosio nel sangue e anche agisce, pensa anche questa sulla riduzione diciamo dello svuotamento gastrico. Una azione simile all'insulina anche perché poi va a inibire la produzione di glucagone e anche la stimolazione di questa amilina porta effettivamente agli effetti che dicevamo prima, simili, molto simili a quelli del GLP-1, quindi la riduzione dell'appetito, l'amilina di insulina, una migliore gestione dello zucchero, dei livelli di zucchero nel nostro sangue. C'è una combinazione quindi in arrivo di questo, di un farmaco che ha questo come bersaglio e questo come bersaglio, si chiama, uscirà col nome di Cagri-sema, la molecola che stimola questa amilina si chiama Cagri-lintide, che è un nome simile a Sema-glutide e hanno fatto il gioco Cagri-sema e questo è un farmaco ancora più potente di quello di cui ti ho parlato oggi, del Wegovi e questo è già una cosa interessante, forse, perché continuo a non nascondere che non sia entusiasta di parlare di tutti questi farmaci. Poi ti ho parlato del glucagone, l'ormone prodotto nelle cellule alfa del pancreas, si sta studiando un farmaco che combini GLP-1 e glucagone, l'effetto sul glucagone, quindi un farmaco combinato che agisca su questi due ormoni. Si sta studiando un farmaco anche che combini l'utilizzo che coinvolga la gastrina e anche il GLP-1. La gastrina ha un effetto, è un ormone prodotto nello stomaco, un effetto anche di rigenerazione delle cellule beta del pancreas, quindi una stimolazione anche a mantenere attive queste cellule beta che producono insulina, bravo, anzi brava. Poi abbiamo la xenina, la xenina peptide prodotto a livello intestinale che potenzia innanzitutto questo GIP, adesso ci arrivo, gastric inibitori peptide, aumenta la produzione di insulina e ha un effetto anche su un aumento della secrezione degli enzimi digestivi e tutto questo può anche aumentare la sazietà, quindi anche questo è un bersaglio interessante effettivamente per dei farmaci. Quindi in fase di studio GLP-1 più gastrina, GLP-1 agonista più xenina e addirittura anche il triagonista, cioè un farmaco che comprenda tutti e tre, GLP-1, gastrina e xenina, un farmaco che comprenda molecole che stimolano tutti e tre. Gli studi su questi farmaci stanno avendo dei risultati straordinari, purtroppo o per fortuna, fammi sapere nei commenti qual è il tuo punto di vista. Sicuramente per il trattamento dell'obesità penso di aver raccontato abbastanza in maniera, spero, precisa su quanto effettivamente può aiutare dal punto di vista della salute pubblica questo tipo di terapia, però lo dicevo prima, è sempre il problema del rischio di abuso. GIP, dicevo prima, gastric inibitori peptide, aumenta la secrezione di insulina, aumenta la proliferazione e rigenerazione anche sempre delle cellule beta del pancreas e ha un'azione anche inibitoria proprio su queste cellule, cioè riduce la morte cellulare programmata delle cellule beta, quindi le mantiene belle attive e quindi in grado di continuare a produrre appunto insulina. Mi accorgo solo adesso alla fine del video che ho anche altri colori, il triagonista qua, questo GLP-1 e GIP è già in commercio in alcuni paesi, è il Mongiaro, la tirzepatide, disponibile in Svizzera, disponibile in futuro anche in Italia, farmaco ancora anche questo più potente della semaglutide da sola, quindi anche qua abbiamo un B agonista, doppio meccanismo d'azione, scriviamolo, tirzepatide, facciamo TZP giusto per non fare tutto il nome, colecistocchinina, ah dimenticavo, cosa c'è ancora? Un altro triagonista, usiamo anzi ancora l'ultimo colore disponibile, farmaco in arrivo con tutti e tra questi, quindi abbiamo azione sul glucagone, azione sul GLP-1, azione sul GIP, tutto insieme, in arrivo, quindi abbiamo due farmaci triagonisti in arrivo, senina GLP-1 e gastrina e glucagone GLP-1 e GIP, effettivamente tutto dal punto di vista farmacologico interessante, ultimo ormone di cui voglio parlarti, CKK-colecistocchinina, un ormone che ha un effetto importante anche questo sulla sazietà, è un ormone prodotto a livello intestinale che stimola gli enzimi, diciamo pancreatici, soprattutto poi anche la contrazione della colecisti, questo naturalmente per favorire la produzione, la spremitura tra virgolette degli enzimi che servono per la digestione di grassi e proteine, quindi anche questo importante effetto sazietà, quindi abbiamo, non so neanche più che colore usare, usiamo di nuovo il rosso, farmaco che combina questi due, quindi vediamo come al centro di tutto questo, tutti questi farmaci in arrivo ci sia GLP-1, sempre l'ormone più coinvolto e più anche efficace nel trattamento dell'obesità, della malattia cronica dell'obesità, effettivamente tutto questo rappresenta una fottuta rivoluzione, questo ormai l'avrai capito, lo saprai già, te lo dico oggi se non lo sapevi, è una rivoluzione che non possiamo ignorare, io stesso che come dicevo all'inizio, come già saprai, non amo l'utilizzo di farmaci, meno male che esistono i farmaci per carità, cioè se io ho una reazione allergica, il cortisone me lo sparo immediatamente nel gluteo, se è una reazione, dice un farmaco salvavita, tanti farmaci per la prevenzione cardiovascolare, antiaggreganti, anticoagulanti, cioè non mi nascondo fare il naturalista o il naturista per forza a tutti i costi, naturalmente ci sono delle condizioni in cui sono necessari i farmaci e li utilizzo per carità, però c'è un strabuso di farmaci, su questo saremo tutti d'accordo, sulla polifarmacia a cui la stragrande maggioranza delle persone sono sottoposte per nascondere sintomi, non curare cause, spesso con l'utilizzo di farmaci per ridurre gli effetti collaterali di altri farmaci, il 65% degli over 60 assume un cosiddetto gastroprotettore, che tutto è tranne che gastroprotettore, i fomosilanzoprazolo, pantoprazolo, sono i farmaci più iper prescritti della storia, che danno tutta una serie di problematiche mostruose, ci ho fatto un video che dovrà uscire prossimamente su tutto questo argomento degli inibitori di pompa protonica, gastroprotettori, insieme al mio collega Alberto Cerasari, c'è tutto il discorso delle statine, altro farmaco super iper prescritto, il problema sta lì, quando c'è un interesse, quando c'è un interesse alla vendita del farmaco e a lavorare il meno possibile, diciamoci anche la verità, perché il sistema sanitario si basa su un assistenzialismo cronico che mira non alla cura della persona, ma al mantenimento di uno stato traballante di sopravvivenza, giusto per fare continuare a prendere tutti questi farmaci e sperare di arrivare a sopravvivere traballanti il più a lungo possibile, quindi questo è chiaro, ne parlo spesso ed è il motivo per cui se ci fosse qualche commento critico nel fatto che sto parlando di farmaci, ne sto parlando bene, volevo specificare questo ed è un argomento fondamentale su cui baso anche la mia pratica, la mia divulgazione eccetera, questo però cambierà, cambierà tante cose, in meglio sicuramente per il trattamento dell'obesità, cambierà in meglio anche per le casse della Novo Nordisk che produce la maggior parte di questi farmaci, diciamo, c'è chi ha comprato le azioni e ha fatto bene, io non pratico e non me ne frega una mazza di sta roba qua e farà bene anche per i sistemi sanitari pubblici? Mi auguro di sì, in tutto questo la speranza che ho, nonostante le implicazioni sociali a cui ho accennato prima, penso che ci sarà effettivamente un importante aiuto nei prossimi 20 anni, probabilmente anche meno, per la riduzione della cronicità dovuta al problema dell'obesità, anche se lì sempre, non per fare, lo dico sempre, non sono certo un complottista, anzi, però quanto conviene a certi interessi non mantenere le patologie croniche, il problema è che siamo andati oltre il possibile, non è più sostenibile nessun sistema sanitario che abbia una parte pubblica, quindi ormai dobbiamo scegliere il male minore, io credo che anche per chi gestisce interessi inimmaginabili, non avere più tutti i malati forse non convenga più tanto nei prossimi anni, quindi non mi spingo troppo su questo, perché anche questo non è mio campo, però è naturale che io abbia anche delle opinioni, anzi se tu hai le tue ti rinnovo l'invito a scrivermi qualcosa qui sotto nei commenti. Fatto sta che però guardiamo sto bicchiere mezzo pieno, io ci conto che potremo fare una migliore prevenzione in soggetti in cui non è possibile proprio in nessun modo guarire la malattia dell'obesità proprio perché è cronica. Un aspetto che non mi piace di tutti questi farmaci è che molti miei colleghi o comunque dal punto di vista della traduttura scientifica parlano di terapia cronica, dato che l'obesità è patologia cronica, terapia cronica con questi farmaci e questo proprio mi sta anche questo un po' sull'anima perché iniziare una terapia che potenzialmente debba essere mantenuta sempre e per sempre non è proprio una cosa che ci fa impazzire, non è vero? Quindi anche questo può essere un limite, però effettivamente ci sono tanti studi che evidenziano che faccio l'ultimo disegno, ok l'ultimo disegno, I promise, altro grafico solito, qua abbiamo il solito tempo e qua abbiamo il peso, parliamo semplicemente del peso, facciamola facile. Partiamo da questo stadio in cui c'è una persona con importante obesità, inizio di terapia con semaglutide, il peso inizia a calare nel tempo, ok, bene, abbiamo un'altra persona con condizioni molto simili, inizia a perdere peso, qua gli diamo il placebo, quindi noi gli diamo il farmaco, gli diamo una cosa che non è semaglutide, gli diamo acqua, il peso inizia a fare di nuovo così, tantissimi studi evidenziano che la sospensione anche magari dopo due o tre anni porti a una ripresa del peso, quindi della condizione di obesità cronica, quindi per questo tanti studiosi bar miei colleghi parlano di terapia che deve essere sempre continuata. A me non piace l'idea ovviamente, penso non piace a nessuno, anche a te piace, però quale può essere una chiave di lettura dal mio modesto punto di vista? Può essere che nel frattempo in cui abbiamo questo miglioramento, una persona riacquista fiducia, riacquista motivazione, in questa fascia di tempo che può essere magari un anno, insistiamo in maniera importante sulla medicina della serie di vita, insistiamo sul discorso dell'esercizio fisico, manteniamo tutto questo che riguarda una buona pratica della serie di vita, quindi alimentazione, sua misura, si parla tanto negli studi di ipocalorica, a me più che di calorie piace parlare di qualità del cibo, di che cosa si mangia più di quanto, il paradigma delle calorie è molto spesso superato per certe persone, possiamo anche vederla da un altro punto di vista, ma non è argomento di questo video. Alimentazione specie specifica possibilmente comunque su misura, accompagnamento quindi anche di buone abitudini, insegnamento e una strada da mantenere il più possibile, di buone abitudini con anche attenzione al sonno, lo stress e tutti gli altri pilastri del lifestyle, mantenere poi tutta una serie di buone abitudini anche riguardanti come dicevo prima l'esercizio fisico, tutto questo per fare sì che questa rimpennata magari non ci sia. Io sarei curioso di vedere non tanto tra i miei pazienti, perché mi capiterà ben raramente di utilizzare questo farmaco, spero, ma utilizzare proprio il caso in cui abbiamo la sospensione del farmaco e abbiamo delle ottime fondamenta di stelle di vita e per cui possono essere mantenute più quelle che il farmaco. Questa secondo me può essere una chiave di lettura, per cui sono molto curioso anche di vedere eventualmente, ripeto, tra qualche mio paziente, ma anche tra tanti altri miei colleghi, ma anche con tutto che uscirà nella letteratura scientifica nei prossimi mesi, essendo un farmaco, una categoria di farmaci su cui sono stati investiti non so più neanche quante centinaia di miliardi di dollari, ci sono anche i fondi per fare enormi studi da questo punto di vista, quindi sempre da valutare che non sia proprio l'azienda produttrice a commissionarli possibilmente, però effettivamente questo potrebbe essere uno spunto eventualmente per evitare magari il mantenimento cronico di un farmaco a vita, perché se stiamo parlando di una persona che ha 40 anni, ha un problema già importante di obesità, tutta una serie di fattori di rischio, eccetera, immaginiamo di avere un successo straordinario con tutta una serie di interventi, anche farmacologici, arriviamo a un peso diciamo anche quasi ideale e questa persona per altri 40 anni, 50 anni continuerà a fare questo farmaco, non mi piace tanto, l'ho detto prima, però sarà da vedere appunto quanta gente veramente sarà parte di questa curva blu, sicuramente l'importante in tutta questa storia qua è fare finalmente qualcosa per la gestione appunto del problema cronico, dell'obesità cronica come dicevo prima, quindi vediamo un po' cosa succederà in futuro, te ne riparlerò probabilmente, lo dico ancora una volta, non amo tantissimo parlare di terapia farmacologica quando ci sono molti altri interventi potenzialmente utili, io anche nei miei anni di pratica non ho mai avuto sostanzialmente bisogno di utilizzare questo tipo di farmaci e ora che ce l'ho disponibile si valuterà, ma a me interessa con un po' di presunzione delineare una strada con le persone che possa poi essere mantenuta il più a lungo possibile, idealmente sempre, quello sì che lo possiamo mantenere per sempre per ridurre l'infiammazione, per ridurre tutti i vari fattori di rischio relativi all'infiammazione, per mantenere anche poi una buona salute mentale con un giusto esercizio fisico, con il controllo dei fattori di stress, a me interessa quello e penso che anche a te interessi quello, cioè avere, migliorare la qualità della vita e perseguire un po' il concetto di cui parlo spesso, dell'invecchiamento di successo, della longevità sana, arrivare a 80 anni che siamo come siamo adesso, che stiamo bene, spero, o stiamo bene il più a lungo possibile, questi sono un po' i concetti su cui lavorare, su cui voglio sempre, su cui lavoro da anni, su cui cerco di insistere anche nella mia divulgazione, poi abbiamo un'arma effettivamente efficacia, abbiamo diverse armi in arrivo o disponibili efficaci, non mi nascondono, ci nascondiamo dietro un dito, però io mantengo sempre alta la fiducia, l'attenzione su quello che è davvero poi il valore della prevenzione, della medicina appunto della longevità e dello stile di vita, quindi è lì che io spero venga sempre mantenuto il focus e non sulla solita storia della pillola magica, vedremo come andrà a finire, non sono tanto ottimista come ho già esternato durante questo video, però cerchiamo un attimo di mantenere chiare quelle che sono le cose importanti della nostra vita, i valori della nostra vita naturalmente e con questa riflessione è forse un po' fuori dal mio seminato filosofica, ti chiedo di lasciare ancora una volta un pensiero qui sotto su quello che possono essere dei dubbi, delle domande, delle osservazioni e arrivati a questo punto credo che sia, come dico spesso, doveroso iscriversi al canale perché ho dato anche delle informazioni, penso di valore anche che ho approfondito in letteratura, ma anche da alcuni congressi a cui ho partecipato negli ultimi tempi, per cui sono valori gratuiti che offro proprio per la mia divulgazione e quindi l'iscrizione e la condivisione di questo video risulta assolutamente doverosa. Grazie per essere arrivato, arrivata fin qui e ci vediamo al prossimo video, ciao!